Musica Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Siamo ritornati nella coppia con il nostro... Ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter Eccoci su Sniper Elite Nazi zombie Esatto, stiamo sulla cattedrale del terrore? Dico una cavolata Eh, la cattedrale della resurrezione Vabbè, comunque terrore e resurrezione ci siamo abbastanza bene Ok, già dicono che prevedono guai e già mi piace E qua abbiamo zombie che cercano di... Ciao zombaci Li trolliamo, trolliamo, tanto non ci possono prendere Sì, sì, guarda come mi si portano via, eh Io ci immagino Ah, questo video ovviamente lo troverete sul mio canale Aspettate che lo state vedendo sul mio canale Il prossimo canale sarà su quello del caro amico Dexter Oh, esatto Ok, la quinta parte di questa co-op La trovate sul mio canale Anche la terza e la... Esatto Diciamo a fasi alterne A fasi alterne Io il cecchino qua me lo toglierei Secondo me è meglio qualcosa di più Allora, io ho una colt Che funziona abbastanza bene Oddio, mi sto a prendere fuoco Stavo sparando in mezzo al fuoco Molto intelligentemente Stavi facendo fiamma praticamente Sì, stavo facendo un bel barbecue con me stesso praticamente Allora, muori, maledetto Sì, è una bella odore di salsiccia È di tu praticamente Esatto Ok Dobbiamo arrivare a ogni speranza e apertura Signore, salvare le nostre anime Ecco Tutto molto interessante Ci pensiamo noi a salvarvi Sì, sì Chi ci salva a noi? Ci salvano gli zombie Ah, che sono i nostri amici praticamente Esatto, perché ci fanno diventare zombie E noi diventiamo immortali A me mi stanno picchiando Esatto, per fortuna sei arrivato tu a darmi una mano Vieni qua, morite Bastardi Ti stai divertendo qui, eh? Ci sono sempre gli zombie ballerina Gli zombie ballerina Ok, questo l'abbiamo fatto Possiamo andare avanti Mamma mia, è pieno È pieno Aspetta, io mi sono perso Dove stavi prima? Aiutatemi Io qua sto impegnato Vaffa friga, vaffa Double kill Sento rumore Oddio Porco due l'uomo con l'accetta pazzo Cioè, ci ha tipo anticipato Sì, sì, sì Ha fatto la preventiva Hai visto che roba? Portarci le... Ancora, eccolo Si nascondono Questi sono tuffatori, professionisti Oh Vai via Allora, qui Non credo che ci sia niente Vediamo un po', eh No, qui torniamo indietro, mi sa Sì, secondo me pure No, oh, non lo so Sì, sì, sì Sì, sì, sì Quindi andiamocene per di qua Qui si apre? No, non si apre questa Se può bucà Non si può bucà che lì dentro Qui? Ok, qua Ok, qua Oh, mamma mia Ma porca puttana Cioè, mi sbaglio? Sono tipo tantissimi Sono troppi Bam, momento rallenty Momento professional Momento professional Sono veramente tantissimi Bam Eh, ma poi come ci buttiamo lì sotto Non ho ben capito Buttateci te Buttateci te Buttateci te No, mi sa che devi andare qua a destra Vedi che è tutto aperto Vabbè, intanto Noi Sterminiamoli da qua Che mi sembra una grande idea A meno che Questi non si sono presi Red Bull E sono zombie volanti Esatto E poi arrivano volando Tipo la Superman Speriamo di no Io scendo però Vabbè, me lo voglio andare un attimo qua Te li vuoi fronteggiare? Sì, me li voglio fronteggiare, sì Aspetta che qua C'è gentaccia però, eh Ok Qua intanto c'è gente che dice Che di salvare le loro anime Ancora? Sì Abbiamo capito Mio Dio, è pieno Ma è veramente pieno È pienissimo Lo so, lo vedo, lo vedo No, tu non lo vedi Perché c'è una parte a sinistra Che tu non puoi vedere Ah, ok Quindi ci stanno anche là Sì Porco, due Hitler L'ha fatti risuscita tutti proprio Tutti quanti? Mai via Bastardo Mi arrivano anche da dietro Mamma mia Aspetta, vengo a dare la mano Aiuto Cosa? Ho cascato E non so dove sei cascato Ma mi hai fatto tipo Finire il terrore Non so nemmeno io dove sono cascato Sono cascato giù Perfetto Aiuto Ah, ti vedo Ti vedo Ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo Stai giocando con due zombie Esatto Acchiapparella Boom Ti si sparta Occhio che ne arrivano altri Ma secondo me Non vorrei che fosse uno spawn infinito Lo sai? Oddio Spero di no Alla andiamo C'è presente gli spawn infiniti Bellissimi dei giochi Però aspetta Non ti vedo Arrivo Andiamo Di qua, no? Sì Direi che dobbiamo uscire da questi casali Ma come non lo so, eh Qua si apre Non si apre È un labirinto Un labirinto magico Allora, qui ci siamo appena buttati E quindi Eh, vabbè E tu, giustamente Qui niente Ah, vediamo un po' qua Si può uscire da qui? Sì Da qua si può uscire C'è un po' di sangue Ma non ti preoccupare È ketchup Buono È ketchup È ketchup Per ordinare patatina Oddio Arrivano i zombie volanti Come gli zombie volanti? Pure i kamikaze Kamikaze, kamikaze, kamikaze Stupidi kamikaze Non hai capito? C'è stato uno zombie volante Si è tipo tuffato dall'altissimo Oh mio dio Allora, qui ci vuole il cecchino Però Qui ci vuole il cecchino Perché Oh cazzo Qua risuscitano pure Ma ti rendi conto Che noi non abbiamo una via di fuga? Sì Che ci abbiamo Sì È interessante come cosa Allora, io mi avvicino un pochetto Mi vorrei prendere qualche munizione Sì, ma più che altro Mi sa che ci conviene Oddio un kamikaze L'hai preso? Oh Ho fatto una strage Allora Mi prezziamo Due mine Tipo qua Sì Oddio Eccolo Hai visto? L'hai visto i zombie che si buttano da sopra? Oddio Guarda, guardali Le ballerine volanti Questi ti cascano in testa Come una cagata di picciono Porco tu, davvero Mio dio Stanno tipo impegnatissimo A cercare Oh Ma chi è? Da dietro pure No No Oh mio dio I miei fan me l'avevano detto Che a un certo punto Ci saremmo trovati in questa situazione Ma non pensavo ora Io non ho neanche munizioni Figurati Ottimo Aspetta Ho lanciato una granata A cazzo No M'hanno preso Dai Ce la possiamo fare però Aspetta Aspetta Sì, sì Quanti secondi hai? Cami cazzi, cami cazzi Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho il tempo Cami cazzi, cami cazzi 48 secondi Ok, arrivo Ho finito i colpi di pistola E forse ce la facciamo Via, 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 via Vabbiamo per questa susina Bastardi Beccate questo Sì Sperando che arrivano solo quelli che si è Davanti Eh sì Ma ti immagini se viene uno enorme come... Sì, ciao, pure Sì, diventa divertentissima la cosa, eh Diventa davvero divertente Uno zombie enorme come quello della puntata precedente Mamma mia Ti vorrei avvertire che io sto senza munizioni Eh sì, anch'io, infatti sto fugando nei cadaveri Anch'io Mi arriva di tutto tranne di quello che mi serve Ok Abbiamo... Pare che abbiamo finito Sì, pare che... Pare Pare che qua ce ne stanno altri Ok Però almeno siamo in uno spiazzale Più o meno Vieni qua È già finita le munizioni Che palle Allora Mi sbaglio sono tantissimi Sono troppissimi Guardati, guardati Ma se non ci richiudono Occhio io guardo dietro tante volte, no? Ok No, ma sono davvero troppi Guarda lì No, allora c'è un problema Io ho... Oh, eh, eh Oh, c'ho solo cecchino Solo cecchino? Anche io ne so Sì, anch'io non posso Solo cecchino Allora, dobbiamo indietreggiare Dobbiamo indietreggiare Eh, non mi sembra una buona idea Eh, o indietreggi o ci arrivano un bocca Come Sasha Grace Esatto Dai, morite, bastardi Oh Finalmente Finalmente Oh, prendiamoci qualche cosa Eh, questo Super resuscitato Doppiamente Double resus No, 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 no Scappa Scappa, piazziamo mine Piazza mine Piazza mine Piazza mine Piazza mine Io l'ho piazzata E non facciamoci arrivare su quegli altri, eh Piazza, ti prego Piazza, piazza questa cosa Ok, ho piazzato Via, via, via Corri, Corri, Dexter Sì, sì Corri, Dexter Sì, stavo in fondo Corri, Dexter Allora, noi ce ne andiamo Veramente lontanissimi Ah Mi ha sparato sulle palle Oh, l'ho chiamato Aspetta, dobbiamo prenderlo in testa Dobbiamo prenderlo in testa Preso Preso Mori, muori Eh, lo sto prendendo anch'io Ripetutamente No, ragazzi Oh No Sì Una grande vittoria Per l'umanità Ma faccio un becca, bastardo Oh, l'hai chiamato comunque Tanto non arriva Eh, se c'è un altro Mi mette a piangere Se c'è un altro Mi mette a piangere Oppure ci mettiamo Direttamente così A 90 Sì, esatto Mi sembra veramente La cosa più giusta Qui continuano ad arrivare Continuano Imperterriti Dai, non è possibile Ancora Che lo sto dicendo Comunque penso che questa coppia È fantastica È una cosa È un gioco fantastico Piano piano Li faremo tutti Promesso È solamente che Ci abbiamo da fare Tutto quanto Quindi delle volte Non riusciamo a registrare Ma se vediamo Tanti pollicioni in su Tanti commenti Ve li facciamo Senza problemi Allora lì Che cosa c'è Che stai puntando Sono degli zombie Però sono rinchiusi In una gabbia Eh, io li lascerei stare Lo sai Perché se poi gli facciamo Rotere il culo Non diventa Una bella cosa Ok Allora via Esatto Forse ci abbiamo Il checkpoint Ti prego, sì Sì, ci abbiamo Il checkpoint Ok, grandissimo Allora ragazzi Direi che l'appuntamento Di oggi Può finire qui Il prossimo video Lo trovate Sul canale Del Dexter Ovviamente Avete il link In descrizione Poi troverete Vabbè Andando avanti Trovate sempre I nuovi appuntamenti Per me L'appuntamento Può finire Mentre io e Dexter Ci facciamo Una sana riposata Per il momento Che ci vuole proprio Quindi Da parte mia Ciao E ci di ciao Gente Ciao Sono Ciccio Gamer Se il video ti è piaciuto Lascia il pollicione Se no sei un cornuto E se non lo lasci Stai pur sicuro Che prima o poi Ti si incula Un paguro Oh yeah C'è 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 C'è